La terza giornata fa 2 settembre e monta uno sinistro, una vita importante. Il fisco di inizio in questo momento. Valoia si occupa di un bambino. 35 metri direttamente. Valoia va a cercare un compagno. Pieng al limite dell'aria. Pieng sul fondo, attenzione! La palla messa in mezzo e poi... Fuori gioco per il Sibu Scuola. Questo bilancio... Testa di imparco. Posterà l'OIA. Inizioni a regolare. Poi il pallone messo in aria comunque. Ancora troppo di testa. Ma c'è l'articcio del pallone. E' lì. Potrebbe essere il pallone del Sibu Scuola. Posterà. Pogniato per l'aterale. Valente. Spirino. Sare lo fa. Lo spasso. Lei è lì. Ma c'è il pallone che termina. Fuori di un sordo. Pura del Sibu Scuola. Come via situazione della Sibu Scuola sulla sinistra. Però c'è l'alterazione. C'è l'attenzione. Poi il pallone potrebbe rimediare PTA. Ma proprio un uomo. Palla. Pessa dentro. C'è il colpo di testa. Pugliene di Milano. Milano per corraduzione. Il pallone che prova la conclusione. Puglione. 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 commitments per liberare scuola. Non dobbiamo stare profusenza. Per se sei giocatori in avanti. Attenzione Tinti. A puntirare. Lappe. Puglione. Piura ancora. Latte che anticipa Die In testa di Valenti, centinaio! Il giudice! 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 E' l'esplice! Valenti! 1 a 0! Mi hanno messo la palla in aria... Riprendiamo la linea e inizia in questo momento Il difensore di Veroni stava contrastato Il gol è tutto suo, intanto proseguiamo ora questa azione del Tempio Con Valenti, Iaia, Valenti! No, tu riesci, tu hai che modo, si viesca la prossima L'azione, Uleri, 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 in sinistro! Guarda che è diverso, fuori! Video tour, corso in mezzo dove c'è Tidia, si deve girare Tidia Che ha spinto alla sua conclusione, era tutto solo in aria Tidia, c'è Tidia, entra, per la ferrara Dentro, Bianco, Berro e Spezzi Arrivano, cercare Uleri, parte palla per Omerone Può servire, Valenti, Uleri, se ne può andare Uleri Entra in aria, Fleri, mette a cento ancora per Valenti La triangolazione di End, palla messa in aria Facendo questo, come un gioco, attenzione Tutti i fanno terminando Può essere importante il suo piede Intanto buona per Valenti A doppio, a doppio, a doppio, a doppio Un gran gol di Valenti Bellissimo servizio di Bianco Porto qui Bravo Guarda che arriva Nicconi Scarica su Valenti Alla destra per Ferraro Ferraro è di fronte all'avversario Ferraro Prova e riesce a mettere a crossare In mezzo, anticipato, ma c'è Basu Buona palla per Dante La corsa Dante Spallata Nella giocatoria Però ancora Dante che insiste E c'è la compuzione Per forza Mette giù bene Il pallone Ferraro Ferraro che può servire Niccoli Serve triangolazione Ancora con Ferraro Ferraro Entra in aria Ferraro Per tirare Spinge Trini Si è scontrato Dubuia Termina qui Termina qui E dunque Questa giornata Nel campionato di promozione Tempio Valle Montaglio sinistra 2 a 0 Mette giù Nel campionato di promozione C'era Nel campionato di promozione